La curva del PFS è anche qui suddivisa per trattamenti precedenti. I massimi esperti nazionali ed internazionali dell'oncologia medica nella cura del paziente anziano sono stati presenti dal 23 al 25 maggio a Pesaro per il VI Congresso Nazionale di Oncologia Geriatrica. L'invecchiamento è uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza del cancro e dei tumori dopo le malattie cardiovascolari e sono la patologia più frequente in questa terza età. Per questo, dalle esperienze maturate nell'ambito dei centri di riferimento, diventa centrale, attraverso una stretta collaborazione fra oncologia e geriatria, di focalizzare l'attenzione sullo stato funzionale dell'anziano per garantirgli in maniera obiettiva e motivata le cure migliori, in considerazione anche della disponibilità crescente di nuovi farmaci ormonali, biologici e di nuovi protocolli di immunoterapia. Nelle Marche, in particolare nella provincia di Pesaro Urbino, si vive a lungo. La popolazione mediamente arriva a 83 anni e le donne arrivano con un'aspettativa di vita ai quasi 86. Scopo dell'oncogeriatria è quello di minimizzare gli effetti collaterali delle terapie oncologiche nel paziente anziano. Policlinico Gemelli da qualche anno abbiamo attivato un'unità vera e propria di oncogeriatria per la gestione del paziente complesso, perché ormai consideriamo più che altro il paziente complesso inteso sia l'anziano, quindi spesso e frequentemente un paziente anziano, ma anche un paziente più giovane, una persona più giovane, che ha più comorbidità, più problematiche e quindi deve essere eseguito nel corso dei trattamenti. Il nostro obiettivo quindi in queste unità e all'interno del Policlinico Gemelli è quello di seguire il paziente nel suo iter diagnostico e terapeutico per evitare gli effetti collaterali dei trattamenti, per personalizzare realmente la terapia, dove per personalizzazione non intendiamo solo il farmaco target specifico per una determinata neoplasia, per un determinato tumore, ma intendiamo guardare il paziente sotto tutti i suoi profili, con tutte le sue problematiche, in modo tale da dargli il trattamento migliore, evitargli gli effetti collaterali, gli effetti tossici dei trattamenti, puntare a quella che è la qualità di vita della persona che abbiamo di fronte e quindi disegnare realmente la terapia sul paziente che abbiamo di fronte. È un qualcosa di complesso che richiede degli specialisti che si occupano essenzialmente di quello, quindi specialisti della complessità, specialisti dell'anziano, specialisti anche in ambito oncologico. Il congresso è stato anche un momento celebrativo per il riconoscimento a livello nazionale per il progetto di oncogenetica. L'oncologia di Marche Nord è arrivata al terzo posto a Contaci, la mostra convegno nazionale dedicata a studi, progetti ed esperienze di oncologia per il progetto di oncologia genetica e counseling infermieristico. Quella del malato oncologico ha spiegato il dottor Rodolfo Mattioli, direttore di unità operativa complessa di oncologia dell'azienda ospedaliera, necessita di una presa in carico a 360 gradi e il progetto che ci ha premiato riguarda una branca dell'oncologia dedicata alla componente ereditaria delle malattie tumorali. Se noi andiamo a ricercare quelle persone che nelle famiglie manifestano sempre la stessa tipologia di tumore, abbiamo una chance in più di prevenire la malattia. Per cui l'intervento infermieristico era la somministrazione del questionario. Abbiamo visto che circa il 17% della popolazione studiata non sarebbe mai arrivata a consulto genetico senza quel questionario. Questo nasce grazie a diverse collaborazioni in realtà. L'intuizione reale è della dottoressa Bracci che è il nostro oncologo che si occupa di oncologia genetica e che è al Santa Croce da ormai un paio d'anni. E poi dobbiamo ringraziare anche l'Università Politecnica delle Marche perché questo studio pilota nasce anche in collaborazione con il corso di laurea infermieristica perché materialmente in questione è stato somministrato da una studentessa che si doveva laureare. Per cui parte del lavoro dell'oncologia col personale medico-infermieristico e parte grazie anche al lavoro dell'Università. Per cui questo dimostra che quando si lavora insieme sicuramente si ottengono dei risultati importanti.